Sono una tappa obbligata nei percorsi turistici della città e assieme a San Francesco la chiesa senza tetto dal fascino ineluttabile rappresentano il patrimonio storico-culturale dell'epoca medioevale di Fano. Sono le tombe malatestiane collocate nel sottoportico della chiesa risalenti alla prima metà del XV secolo. Ospitano Pandolfo III Malatesta sulla destra e Paola Bianca, sua prima moglie e Bonetto da Castelfranco, medico di famiglia, sulla sinistra. Ed è proprio la tomba di Paola Bianca Malatesta molto più ricca di decorazioni, le cui realizzazioni sono attribuite al Nuti e a Leon Battista Alberti che necessita di maggiori interventi di ripulitura dall'aggressione del guano dei piccioni che inevitabilmente ne intacca il materiale lapideo. Questa operazione che partirà tra pochi giorni e della durata di un paio di settimane sarà resa possibile grazie all'opera gratuita di un'azienda affanese specializzata nei reustauri dei beni architettonici operante su tutto il territorio nazionale. E quindi la signora Macchi con la sua impresa gamma che è specializzatissima in queste opere pulirà con acqua distillata un'opera di restauro che è stata fatta una ventina di anni fa e ancora non ha problemi quindi fortunatamente le tombe godono di ottima salute. Però un biglietto da visita migliore per uno spazio molto desiderato dai turisti anche per gli spettacoli che facciamo noi d'estate ed è un primo passo per cominciare a pensare a un'opera sistematica di restauro e di conservazione complessiva del bene che non vogliamo perdere. Dieci dipendenti di giovane età ma di grande esperienza tutti a contratto indeterminato cosa non di poco conto visto oggi come va il lavoro la gamma restauri azienda affanese attrazione femminile è già stata artefice del bellissimo recupero della chiesa di San Pietro in Valle ed è impegnata nei giorni nostri nei delicati recuperi delle zone del sisma vanta una decennale esperienza oltre alla passione e alla competenza della sua titolare che come gesto di amor di patria ha voluto impegnarsi per il patrimonio culturale della città. Per l'anniversario dei 15 anni della mia ditta volevo offrire qualcosa alla mia città e quindi quando ho pensato a quale poteva essere l'opera che aveva più necessità mi è appunto venuta in mente l'etome monatestiane e da lì è partito tutto l'iter finalmente oggi siamo allo start e inizieremo fra una settimana dieci giorni anche il tempo di allestire l'aria cantiere e sarà fatto con degli impacchi di acqua distillata quindi niente di particolarmente aggressivo ma proprio soltanto per riportare diciamo in luce la bellezza delle opere e preservarle dal degrado.